Salve a tutti ragazzi, io sono Blackardash e bentornati oggi qui su YouTube. Oggi vi parlerò di una serie TV del 2022 targata CW, ovvero Superman & Lois. Ma prima di cominciare io vi ricordo, qualora ancora non lo facesse, di seguirmi sul canale Twitch dove porto live di diversi contenuti. In alcuni si parla, in altri si gioca, in altri siamo in compagnia di altra gente e poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove invece potete restare aggiornati riguardo tutta quanta la programmazione del canale sia Twitch che YouTube. Quindi, detto questo, bando alle ciance e cominciamo subito. Allora, Superman & Lois, seconda stagione finalmente conclusa. Sappiamo che la CW ha un po' dei tempi di distribuzione forse adatti a un vecchio sistema televisivo tant'è che molte volte le serie TV cominciano nel 2021 e finiscono nel 2022 o comunque sono a cavallo tra un anno e l'altro. Ecco questo è proprio il caso di Superman & Lois di questa seconda stagione. Allora, intanto devo dire che nel complesso la serie mi è piaciuta molto. È a mani bassi attualmente la miglior serie Arrowverse, se così si può chiamare, ma ci arriviamo dopo. E devo dire che Tyler Rochelin, come Superman, ragazzi, mi convince sempre di più. È vero che ha un costume che per il budget che hanno sembra fatto per un cosplayer più che per una serie TV però, al di là del costume, lui come Superman è fantastico. Emana il carisma, l'autorità e in certo senso anche la bontà che dovrebbe emanare il personaggio di Superman che non è quello che avete visto nel DC Extended Universe con Harry Cavill, per intenderci. Cioè, è un po' l'opposto, ecco, del Superman che c'era un po' negli ultimi tempi. Quindi un po' un ritorno agli origini con questo Tyler Rochelin che cresce di episodio in episodio nell'interpretare questo Superman, che peraltro ha anche un lato umano incredibile. Infatti la serie si concentra poi anche molto sul lato umano dei personaggi. E secondo me è la scelta giusta per tornare un po' a rendere onore a un personaggio che negli ultimi tempi non stava venendo trattato nel migliore dei modi. Tra film animati come Injustice, che è aberrante, al Superman di Man of Steel e dello Snyderverse, che per carità, per quanto io non disdegni fino alla fine del progetto di Snyder, quel Superman, ragazzi, è inguardabile. Però comunque, adesso siamo tornati su un Superman un po' più old style, quindi il classico buon vecchio Superman, con un lato umano, niente male. Devo dire che Tyler Rochelin, a interpretarlo, è perfetto. Il cast poi, devo dire, che è in generale molto buono in questa serie. Abbiamo anche Elizabeth Tullock, o Bizzi Tullock, se non sbaglio come si fa a chiamare, che interpreta Lois Lane, e devo dire che anche lei è una Lois Lane perfetta. Cioè, io penso che lei sia la migliore Lois Lane che sia mai stata vista a schermo, e non sto esagerando, perché è un personaggio che è coprotagonista, lo dice anche il titolo della serie, è una coprotagonista. E in quanto tale ha un carisma diverso da quello che ha Superman, ma altrettanto importante. C'è da dire che ha delle storyline molto molto interessanti, ha un lato umano anch'essa incredibile, ed è il bello proprio della serie, quello che si va a concentrare sul lato umano dei personaggi, di chi è super e anche di chi è meno super, per renderti il tutto più tangibile, per renderti il tutto più vicino alla tua sfera quotidiana. E questo è, secondo me, un qualcosa di straordinario per una serie TV CW, eh ragazzi, ricordiamocelo, è una serie TV CW. E anche qui, attorialmente, Bitsy Tullock fantastica nell'interpretare Lois Lane. Ora, la seconda stagione si compone di 15 episodi, ha una trama che è abbastanza lineare, divisa un po' in due parti. Cioè abbiamo una prima parte in cui c'è uno pseudo-villain, mentre nella seconda parte emerge il vero e proprio villain della serie. Diciamo un po' come era stato fatto per la prima stagione, dove c'era John Henry Irons, e che è Lex Luthor, come villain per la prima parte, e poi Tulloro diventava il villain effettivo della serie. Ecco, qui viene un po' fatta la stessa cosa in questa seconda stagione. Ora, non vi dico un po' che sono i villain, anche se potete ben immaginare, ecco, quanto meno uno dei due. Quindi, se da una parte la trama, come al solito, parte divisa per poi convergere in un'unica trama, secondo me è molto molto buona e solida, le sottotrame, diciamo che se da una parte alcune sono interessanti e ben sviluppate, altre vengono poi un po' troncate, lasciate monche e finite un po' nel dimenticatoio. Oppure è il caso di alcune che vengono risolte troppo in fretta. Faccio un esempio, una delle sottotrame legate a Jonathan, uno dei due figli, appunto, di Superman e Lois. Diciamo che parte con una trama abbastanza interessante, comunque sembra poter avere un certo impatto, poi alla fine si chiude un po' alla bella e meglio e viene lasciata poi un po' lì nel dimenticatoio. Ma ci sta, tutto sommato. Cioè, chiaro, in 15 episodi, magari cose del genere, me le aspetterei un po' di meno, ma tutto sommato non sono questi, diciamo, i gravi problemi della serie. Il finale, devo dire, che poi è molto molto buono. Causa un evento apocalittico, essenzialmente. Un evento che non si era mai visto prima in nessuna serie Arrowverse, mi viene da dire. E qui veniamo un po' al punto, perché un evento così grande che può portare letteralmente alla fine del mondo, non sto scherzando, e alla fine interviene solamente Superman, mi fa un po' pensare. Dico, ok, ma siamo nell'Arverse, quindi Flash, Supergirl, gli altri supereroi si stanno facendo un caffettino mentre il mondo va a puttare. Cioè, come funziona? E no, perché poi qui ci viene in soccorso il buon colonnello Lane, il padre di Lois, con una frase illuminante, che dice, parafraso, questo mondo, se questo mondo ha l'unico protettore che è Superman, deve ritenersi fortunato. Ora, qui diciamo che i dubbi un po' si chiariscono. Cioè, quello che sembrava solamente un presagio all'inizio, ovvero che Superman e Lois si andasse a distaccare dall'Arverse, diventa poi effettivamente una conferma, perché sappiamo che a questo punto Superman e Lois non fa parte dell'Arverse. ha preso una direzione sempre più a sé stante, nonostante però vediamo dei personaggi come John Deagle. E qui mi viene un po' da riflettere, perché, ora, questo John Deagle, che sembra avere peraltro la stessa storyline del John Deagle che vediamo in Flash, che abbiamo visto chiaramente in Arrow, eccetera, è un John Deagle alternativo con una storia molto simile, oppure è lo stesso John Deagle e quindi si stanno ancora tenendo la carta del che facciamo, la mettiamo nell'Arverse, non la mettiamo nell'Arverse, gli diamo progetti futuri, continuiamo su questa strada, non lo sanno neanche loro. Ecco, questa è un po' una cosa che mi ha dato un po' fastidio, cioè il fatto che questa serie non si sa se si collochi all'interno di un universo condiviso, e in quel caso, ripeto, per il finale ci sarebbero grossi problemi, oppure in un universo a sé stanti, allora li alzo le mani, perché è una serie fantastica. Ora, chiaro, io sto qui a parlare della serie, non dell'universo condiviso, e in quanto serie io vi dico che è una serie assolutamente qualitativamente molto, molto, molto elevata, soprattutto per una serie CW. Ora, tornando un po' a parlare dei personaggi, anche i secondari hanno il loro spazio, da John and the Irons a sua figlia Natalie, che sono approfonditi anche in maniera molto, molto interessante, soprattutto nella prima parte, nella seconda li vediamo un po' in conflitto, il loro rapporto evolve, insomma, veramente belle dinamiche anche lì. Abbiamo poi Talor, che diventa un po' il Malcolm Merlin della situazione, anzi, all'inizio sembra un po' essere il Malcolm Merlin della situazione, quindi quel villain, non villain, quel personaggio rompi i coglioni che torna così ogni tanto, alla fine poi vediamo che invece vuole effettivamente recuperare un rapporto con il suo fratello, quindi, insomma, diventa un po' più sulla strada del suo Redemption Arc, per così dire. Poi abbiamo anche altri comprimari, come la famiglia Cushing, che avevamo già visto nella prima stagione, che sono, secondo me, dei buoni riempitivi in questa serie, che servono a contornare le vicende della famiglia Lane, le vicende di Smallville, e quindi, insomma, secondo me condiscono perfettamente comunque anche loro questa serie, e sono tutti quanti dei personaggi interessanti, da Lana a Kyle a Sarah, che appunto avrà una sua storia con Jordan, come sappiamo già dalla prima stagione, in questa seconda stagione questa sottotarma tra Sarah e Jordan acquisisce ancora più importanza, perché si entra anche un po' in dei temi particolari, ecco, quindi non vi spoilerò nulla, però, insomma, molto molto interessante. Ecco, appunto, parlando di una serie anche familiare, ha il suo lato teen, ha il lato teen che è legato alle sottotermine dei due ragazzi, quindi di Jordan e Jonathan, ma è un lato teen che non dà fastidio, è un lato teen che serve a condire ancora una volta la vicenda, uso ancora una volta questo termine, perché mi sembra il termine esatto per questa serie, cioè, al centro ci sono Superman e Lois, Clark e Lois, tutto quello che c'è intorno è un condimento che non fa altro che, come dire, amplificare la potenza di quei due personaggi e della trama che gli si svolge attorno, ecco. Quindi anche le sottotrame teen sono utili in questo senso, a dare una maggior dimensione, una maggior ampiezza alla serie, ma il lato che io più amo di questa serie è il family drama. Io non sono un grande amante delle serie family drama, lo devo ammettere, ma il modo in cui viene trattato questo gene, se così vogliamo, in questa serie è straordinario. Vediamo delle dinamiche molto umane in contesti super, mettiamola così, questioni di fiducia, questioni di litigi familiari, in un certo senso, questioni di voler proteggere una persona, tutto quanto su due facce, c'è il lato super e c'è il lato umano. Questi due lati spesso convergono in uno, in questa serie, e creano secondo me un connubio veramente fantastico, quindi io sono molto, molto, molto contento di quello che Superman & Lois tira fuori da una serie tv super eroristica su Superman. Il lato tecnico è interessante, cioè abbiamo una regia e una fotografia che sono qualitativamente molto buone per una serie, chiaro, non siamo a livelli Lost, Game of Thrones, non siamo a quei livelli lì assolutamente, però se pensiamo che le serie CW hanno un budget molto ridotto, anche se questa qui è un budget più alto rispetto a Flash, rispetto a quanto ne aveva Arrow, eccetera, devo dire che dal punto di vista registrico e della fotografia c'è grande attenzione, grande cura nei dettagli, una cosa che non si vedeva sempre nelle serie CW prima, anzi, non si vedeva quasi mai. Quello che però mi lascia spesso interdetto è la CGI, perché in alcuni momenti è buona e di livello, in altri momenti lascia un po' a desiderare, mettiamola così. Anche qui non siamo ai livelli aberranti ai quali è arrivato Flash con la CGI, però comunque diciamo che in alcuni momenti non è proprio impeccabile. Però ripeto, in una serie con un budget del genere che ha altri obiettivi, ovvero quello di narrarti più storie, più vicende, se la CGI a volte sfarfalla, diciamo che lo posso accettare, anche perché 15 episodi sono tanti, distribuire bene il budget non è neanche facile, devo dire che però il lavoro anche in questo caso è fatto secondo me in maniera ottimale. Detto questo, io non ho altro da aggiungere su Superman & Lois, penso che si sia capito che è una serie che mi è piaciuta moltissimo, che ha anche i suoi difetti, è un po' ridondante in alcuni momenti, la CGI è non sempre perfetta, alcune sottotrame rimaste monche, diciamo, i suoi difetti ce li ha, ma nel complesso è una serie tv molto molto valida, secondo me è da guardare, chi abbiate visto oppure no l'Auvers, non è assolutamente necessario questo, almeno per quello che ci hanno mostrato in queste due stagioni di Superman & Lois. Detto questo, io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questa serie, se l'avete vista, se la vedete, di lasciare un like e un commento, coloro voleste, di seguirmi su tutti quanti i social, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!